Ha un'atmosfera molto bella L'anno scorso faceva più caldo Questa è una piccola cosa L'anno scorso faceva molto più caldo Infatti io ero super preoccupato Perché visto che devo incontrare e parlare con tantissime persone Ho detto ecco qua dopo mezz'ora Mi so portare il dotore antedietro E invece Sto tutto a posto È molto bello È un festival importantissimo Sia per chi ama il cinema E chi Anche magari non è molto fan del cinema Ma gli piace comunque scoprire nuovi mondi E vuole esplorare Non so come dirlo in italiano Quindi dico Comunque è un festival molto importante E sono felice che per il secondo anno di fila Sono tornato qui Spero di trovare ovviamente amore delle persone Che quella è la cosa più importante Io a Salerno sono venuto tre volte Questa è la mia terza volta Una volta semplicemente perché stavo di passaggio Per Stavo registrando con il mio miglior amico Tutta roba in autostop abbiamo fatto E quindi si è passato di passaggio L'altra volta il giffone Quindi Speravo E ovviamente così è stato Di trovare Gente calorosa E cosa mi porta a casa? Di certo una bellissima esperienza Perché Io sono fiero Cioè sono felice di stare qui Comunque ogni viaggio Ogni experience che faccio Eh la distanza Allora Vivere in un mondo digitale Ovviamente grazie alla digitalizzazione Sembra che la distanza Viene Non esista più Ok? Ma in realtà Ti dico la verità Io devo ringraziare La digitalizzazione Perché Sono quello che sono adesso E conosco anche i seri Grazie a quello Da una parte la devo un po' demonizzare Perché grazie a Tutto questo Sono distante con la mia famiglia Quindi I veri affetti Io ho rivisto I miei nonni Che non vedevo da Mesi Per due giorni Quindi È un tema molto Molto importante Che non va di certo trascurato Un bacione Un saluto Ai ragazzi di Giffoni E mi raccomando Studiate E Divertitevi Divertitevi Se potete divertitevi Sì 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 E guardate tanti film Divertitevi